Trebel, hai voluto tornare a Reggio, hai fortemente voluto tornare a Reggio, hai fortemente voluto tornare a Reggio, hai fortemente voluto tornare a Reggio, la tua esperienza qua due stagioni fa ha avuto un'influenza forte nella tua scelta? Sicuramente, un po' altre squadre ho chiesto se volevo venire, una squadra in Israele e una squadra in Grecia, ma perché della mia relazione con Max e l'esperienza che ho avuto a Reggio, ho visto sicuro che questa era la mia prima scelta, quindi sono molto felice di tornare a Reggio. Come non funziona con Barcellona? E' stata una buona esperienza e l'ho spero di venire il miglior. Questo è il tuo ritorno nella major league, nella prima league italiana, dopo alcuni anni, è questo anche un ritorno per te per la carriera personal? E' il tuo ritorno in Serie A dopo qualche anno, lo vedi anche come una sfida per la tua carriera? Yeah, but overall, I'm not really looking at it like that. This team was in a good position, so for me, I want to try to fit into the team in the best way and hopefully reach the team's goals. I haven't really made individual goals in many years, maybe because I'm a little older, but all I care about is winning. I just want to do the best I can do to help the team win. Which of your teammates do you already know or play with in Reggio? Slyner, maybe Chervie, and some, someone against. Con quali compagni conosci già, con cui hai giocato, contro Conner? Yeah, I know Brunner, from past experiences, in DC, Taylor, Chinchirin, played against him. So I have a good feeling for all of them, but, you know, you still have to get on the court and, you know, put it together. So that's my goal. Oltre a quelli con cui hai giocato, conosci anche Brunner, Taylor, Chinchirin, ha buone sensazioni poter giocare con loro, però è chiaro che deve allenarsi. About that, what are your physical condition, your injury, quali sono le sue condizioni, l'infortunio? I feel good, I feel good, my toes, it works now, my toe works now, so I'm happy about that, and I just want to get, you know, get in the practice and see where my conditioning is, but I think I'm good, you know, I think I'm good, I know I have to work hard, you know, to get the full sensation, but I think I'm good. Sto bene, ha detto che ha risolto completamente i suoi problemi, deve allenarsi per capire a che punto è, però sta molto bene. Last thing, the first match is against Milan, the first match, great challenge, prima sfida contro Milano del suo esordio, insomma, subito una bella partita. Yeah, it's a big game, you know, I'm definitely looking forward to it, I just want to make sure that I can fit into the team in the right way, you know, have a good chemistry, but, I mean, it's a big game and it's going to be a lot of fun. È una di quelle partite belle da giocare, sarà molto divertente, non vede l'ora di giocare capire che quanto può aiutare la squadra. Thank you. No problem. Good luck. Thank you.